Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto, siamo tornati dopo le elezioni regionali abruzzesi e siamo tornati per parlare appunto del loro esito, per commentare quali sono anche i futuri scenari e lo faremo in questi giorni, in queste settimane incontrando i consiglieri regionali eletti, quelli più votati, anche quelli rieletti. Non potevamo non iniziare, parlando del nuovo consiglio regionale, con il presidente dell'Assemblea Legislativa abruzzese, Lorenzo Sospiri, che è qui nei nostri studi. Buonasera Sospiri. Buonasera direttore, buonasera ai telespettatori. Dico giustamente, lì c'è scritto Forza Italia, perché giustamente lei ha preso 8.822 preferenze per la lista di Forza Italia, diciamo che è ancora in una veste elettorale, ma ci tengo a sottolineare anche il fatto che le voglio fare una domanda istituzionale, per ricordare che c'è un consiglio regionale ancora attivo in prorogazio e soprattutto per chiederle, Sospiri, prima di entrare proprio nel cuore delle domande più politiche, che cosa accadrà in questi giorni poi per l'insediamento del nuovo consiglio regionale. Lei sta seguendo anche queste procedure in queste ore? Allora direttore, sì, le rispondo subito, mi permetta prima di farle i complimenti come professionista della informazione a lei, a Rete8, a tutto il gruppo, per come hanno condotto tutta la campagna elettorale, devo dire, in particolare il giorno dello spoglio. Noi abbiamo dato, anche grazie a voi, un'immagine dell'Abruzzo, dopo i fatti della Sardegna, estremamente qualificata ed efficiente. Questo è anche merito, però, delle strutture del consiglio regionale e della Giunta, deputate alla sovrintendere le procedure insieme con la Corte d'Appello delle elezioni e ad una legge elettorale chiara, senza papocchi, senza voti disgiunti, molto semplice da applicare nella distribuzione dei quotienti e dei seggi che io ho fatto nelle precedenti legislature e che ci hanno permesso tutti insieme di arrivare nelle prime ore della notte, perché lo spoglio è iniziato inevitabilmente intorno a mezzanotte, avendo di fatto dei risultati conclamati, anche grazie a un ottimo professionista quale noto, di cui anche noi in passato ci siamo avvalsi. Quindi complimenti ancora per la splendida immagine che abbiamo dato della nostra regione. Vengo alla sua domanda. Noi siamo in carica, ovviamente, fin quando non ci saranno i nuovi organi costituiti. Siamo in carica per l'ordinaria amministrazione della regione e del Consiglio e nel caso, che spero non ci debbano essere, di straordinarie necessità. Adesso le procedure sono anch'esse molto semplici. Attenderemo la proclamazione degli eletti, ovvero la certificazione dei risultati trasmessi alla Corte d'Appello. Una volta che vi sarà la proclamazione, che secondo me non porterà via, molti giorni non mi pare che ci siano molti casi di contenzioso in essere, a quel punto, entro 20 giorni dalla proclamazione, il consigliere anziano, cioè il più votato, che è Mario Quaglieri, dovrà indire il primo Consiglio regionale. Quando si arriverà al primo Consiglio regionale, ovviamente ci saranno già i decreti di nomina della Giunta, il Presidente della Giunta proporrà le proprie linee programmatiche di mandato ed eleggeremo anche il nuovo Presidente del Consiglio regionale, il suo ufficio di presidenza, e inizierà poi il lavoro della nuova legislatura. Sulla Giunta, Marsilio ha già detto, faremo subito, anche perché c'è un risultato elettorale che aiuta, avendo premiato tanti degli assessori uscenti, avendo premiato anche lei per il ruolo istituzionale che ha svolto in questi cinque anni. Lei è convinto che non ci saranno tensioni e soprattutto la curiosità è sapere ora Lorenzo Sospiri se resterà Presidente del Consiglio regionale o avrà un ruolo nell'esecutivo. Allora, io penso che il Presidente Marsilio, consultandosi con i partiti, penso anche con chi ha qualche esperienza maggiore e più dei colleghi che sono stati appena eletti, può realizzare velocemente la Giunta, perché l'incastro di competenze prima e di rappresentanza territoriale dopo non è poi così difficile. Chiaramente Fratelli d'Italia deve essere un partito comprensivo delle esigenze degli altri territori e degli altri partiti, perché ha il Presidente della Giunta regionale, perché è molto ampio come forza e quindi deve essere anche ampio come disponibilità. Però non credo che sfrutteremo tutti i 20 giorni a nostra disposizione per presentare il nuovo governo regionale agli abruzzesi, non ne abbiamo neanche tutta questa voglia di stare troppo a discutere, abbiamo lasciato un lavoro in corsa, abbiamo voglia di poterlo concludere velocemente, abbiamo anche tante scadenze elettorali importantissime che sono lì all'inizio della battaglia, quindi faremo veloce e spero che il Presidente Martiglia, io aiuterò il Presidente Martiglia a fare il più veloce possibile. Per quanto riguarda me, lo sa direttore, mi conosce da molto tempo, io non sono una persona che vive di particolari lustrini personali, vorrei tanto essere ancora più utile alla mia regione, alla mia provincia che quella dove sono stato eletto, faccio quello che serve, ho delle qualità, poche, ma quelle che ho mi vengono riconosciute e resto a disposizione. Voglio sottolineare però che è vero che io ho avuto un discreto risultato personale, ma noi abbiamo avuto un gigantesco risultato di partito. In provincia di Pescara abbiamo preso il 17%, questo è frutto di una grande squadra, di un grande radicamento, di ottimi candidati di ogni ordine, grado e genere, uomini e donne, di cui io devo tenere conto nelle scelte che faccio. Una Forza Italia che diventa la forza trainante della coalizione a Pescara e in provincia e anche in città. In un momento in cui, lo ha sottolineato lei proprio questa mattina sulle colonne del centro, bisogna rilanciare un'azione proprio su Pescara, anche poi nella prospettiva della nuova città, che torni a rendere il centro-destra ancora più vicino alle necessità dei cittadini e delle categorie. Insomma, sono parole che pesano anche nella valutazione di un risultato che vede il centro-sinistra al momento come forza prevalente nelle espressioni elettorali dei pescaresi. Insomma, è preoccupato per le prossime comunali? No, non sono preoccupato, ma non sono un presuntoso e quindi analizzo i dati e come ho detto anche sul centro, per me gli elettori hanno sempre ragione. Analizziamo bene però questi dati, le coalizioni sono di fatto alla pari. Poi vi è stata una prevalenza del voto solo sul candidato d'amico rispetto a Marsiglio di circa due punti. E questo è un dato che a me non sta assolutamente bene, la cui responsabilità non risiede in Marco Marsiglio, ma evidentemente nella nostra non sufficiente capacità di svolgere al meglio la campagna elettorale. Arriviamo alle comunali di Pescala. Il centro-l'Esta ha tutte le opportunità per vedersi riconfermato e per vincere al primo turno. Perché la nostra coalizione sarà più forte? Perché il famoso campo larghissimo sarà molto più ristretto se arrivano nelle condizioni in cui sono oggi? Perché in mezzo abbiamo ancora la Basilicata, abbiamo tensioni, i risultati elettorali hanno parlato chiaro, è un partito come il Partito Democratico che si è fortemente rafforzato, qualche altra espressione di questo campo largo che invece ha avuto risultati più o meno discutibili. E già ci sono più candidati sulla città di Pescala, quindi lo schema non è assolutamente uguale. Ma detto questo non possiamo fare a meno di riconoscere che ci sono ambienti o zone della città con cui va ricostruito definitivamente un rapporto di concordia. Questo a prescindere perché non si governa contro qualcuno. Chiaramente chi governa fa scelte, queste scelte che magari portano grande beneficio per il futuro possono in generale delle tensioni per il presente. Ma questo non vuol dire che non bisogna ricercare la concordia tra una comunità cittadina. E io sono qui con grande umiltà per riconoscere degli errori che sono stati fatti e per assicurare assolutamente che siamo già al lavoro per rimetterli a posto. Fermo restando che gli errori che sono stati fatti sono stati in gran parte ingenerati da progetti, procedure o non soluzioni che derivavano dal passato. Lei è arrivato a queste conclusioni di lettura dell'espressione dell'elettorato della città di Pescala anche leggendo i risultati delle preferenze di molti dei componenti della squadra di governo di Carlo Masci che si sono cimentati proprio in queste regionali e da lì che arrivano secondo lei questi segnali. Insomma, assessori che sono stati premiati, altri che per le scelte che sono state fatte un po' meno. No, no, le devo dire dire direttore no perché anche io sono un amico di Carlo Masci che appartiene al mio partito, che è il partito che prende il 17% in provincia e il 14% in città. Vincenzo Lincecco è stato, le cito colleghe che sono stati eletti, è stato il capogruppo della Lega che era il principale partito di governo con tanti assessori nella giunta di Carlo Masci eppure è stato rieletto anche con un considerevole risultato elettorale. Per citare quelli che erano impegnati in comune e non altri. Poi si sa, le elezioni regionali sono elezioni diverse dalle elezioni comunali, ci sono in campo tanti territori, non basta essere forti e radicati solo in città, c'è una competizione interna, tante fatti specie. Non credo che la non elezione di alcuni colleghi, che tra l'altro ringrazio perché poi si vince tutti insieme, si vince con chi ne prende 8 mila e con chi ne prende 2 mila, perché poi adesso ragioniamo di un largo distacco, ma per molto tempo in campagna elettorale abbiamo sentito una serie di affabulazioni, di narrazioni infondate, siamo in vantaggio, il pareggio è già raggiunto, conta solo calcolare qual è l'entità del distacco di D'Amico su Marsiglio, insomma col senno di poi è tutto semplice, durante la battaglia la propaganda di D'Amico aveva creato più di una fibrillazione. Detto questo, io faccio un ragionamento su Pescara perché vivo Pescara, cammino a piedi per Pescara, parlo con la gente di Pescara, dormo a Pescara, lavoro anche e soprattutto a Pescara e comprendo che ci possono essere state delle scelte chiaramente fatte in buona fede che hanno ingenerato uno sfibramento con alcune categorie della nostra città, già in difficoltà per macro problemi economici e in alcune zone della città. Siccome, ripeto, nella mia vita ho molti difetti tranne la presunzione, io dico che con questi ambienti e con queste zone della città bisogna dialogare e risolvere i problemi che si sono creati. Il secondo grande tema che lei ha posto proprio nell'intervista al centro di questa mattina riguarda le naidi. Questa è una vicenda che va chiusa con tempi brevissimi e bisogna metterci la faccia, Sospiri. Oddio, devo dire la verità, la faccia ce l'abbiamo messa pure troppa e qualche volta l'abbiamo pure persa. Ecco, e questa è una cosa che a me indispone non poco perché io tengo alla mia faccia, intendo come regione e come persona. Detto ciò, noi abbiamo fatto già delle scelte, abbiamo capito che dal mercato non sarebbe giunto nulla, né nulla di stabile, né nulla di serio. Ahimè, perché nessuno ci ha formulato nessuna proposta che abbia retto l'urto dei controlli, dei controlli economici, dei controlli gestionali. Le abbiamo provate tutte, ma le naidi devono riaprire come valenza sportiva e come valenza sociale. Pertanto, Marco Marsiglio si è preso addosso questo problema, ci ha messo due facce, non una faccia, ha richiamato alla gestione interna della regione questa struttura, ora sono quattro mesi che le strutture della giunta regionale devono girare la chiave d'ingresso del portone delle naidi. La pazienza è terminata assolutamente, penso di poter interpretare anche il parere del Presidente Marsiglio che sono certo che scalerà la marcia, non sopporterà di andare oltre questo mese per non avere le naidi aperte, anche qui, se abbiamo causato delle difficoltà, ci scusiamo moltissimo, cercheremo di mallevare i problemi che hanno avuto le associazioni sportive, come ha detto il Presidente Marsiglio, con una gratuità per un lasso di tempo della loro permanenza alle naidi. Il messaggio mi sembra chiarissimo. Ultima considerazione di ordine generale. Perché ha vinto Marco Marsiglio e perché Luciano D'Amico, nonostante la qualità della sua candidatura, non ha generato un consenso aggiuntivo in Abruzzo che consentisse di ricucire il gap dalla coalizione del centro-destra? Perché gli elettori sono attenti, gli elettori fanno analisi, valutano tutto, non sono un greggio di pecore che qualcuno porta a spasso e non perdonano errori del passato. D'Amico era una copertura alla giunta precedente a quella nostra che aveva governato, non aveva risolto i problemi ed era stata bocciata dagli elettori infatti successivamente. Per riuscire a battere Marco Marsiglio hanno messo insieme non una coalizione che aveva dei valori condivisi anche durante le trasmissioni tenute a rete 8, a volte si contraddicevano tra i loro, erano insieme ma si facevano quasi l'opposizione, non si erano abituati al nuovo corso, non era una coalizione, quella era una somma di quosenti aritmetici per provare a vincere le elezioni. Poi ci si pensa, poi si è data l'impressione dopo il voto sardo che il nemico fosse la Meloni e che della regione tutto sommato non interessasse poco a nulla al campo diciamo cosiddetto largo la presenza dei leader nazionali, la stampa diciamo più orientata nel campo progressista in continuazione sembrava che l'Abruzzo fosse l'Ohio dove Biden e Trump nella scorsa e corsa per le presidenziali si stavano disputando per pochi voti 50 senatori per determinare chi fosse l'uomo più potente del mondo ovvero il presidente degli Stati Uniti d'America. Dall'altra parte Marsiglio aveva una coalizione coesa assolutamente armoniosa pur nelle differenze e portava a casa con grande onestà un risultato di questi cinque anni che sono stati condizionati dai primi due anni per le ondate pandemiche del covid e diceva gli abruzzesi eccomi qua potevo fare molte altre cose siccome è un lavoro da finire fatemelo finire dateci la continuità che è stata in tutte le altre regioni più efficienti e più efficaci di noi il presupposto dei buon governi siccome gli abruzzesi sono persone particolarmente intelligenti non si sono posti neanche il dubbio di quale fosse la scelta più utile per l'Abruzzo e hanno confermato Marsiglio D'Amico ha sbagliato totalmente la campagna elettorale ma se anche come dice lui l'avesse posta in altri termini per spiegare meglio il programma avrebbe perso comunque perché la gente voleva riavere Marsiglio presidente bene grazie a Lorenzo Sospirico noi abbiamo fatto una prima lettura dei risultati elettorali soprattutto aperto le prospettive su quelle che saranno le notizie dei prossimi giorni riguardanti sia la regione ma anche Pescara perché insomma adesso ci si tuffa anche già tra qualche giorno in una nuova campagna elettorale grazie grazie a lei direttore complimenti ancora